Aumenta ad agosto la fiducia di consumatori e imprese. Secondo quanto riferisce l'Istat, la stima del clima di fiducia dei consumatori sale da 100,1% a 100,8%. Per le imprese da 77 a 80,8%. Si tratta del terzo mese consecutivo con il segno più. Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori il clima economico registra l'aumento più marcato. Riguardo alle imprese le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori con un'intensità maggiore nel comparto dei servizi. Nel secondo trimestre 2020 l'indice del fatturato dei servizi diminuisce del 21% rispetto al trimestre precedente. Il calo su base annua è del 26,2%. Secondo i dati Istat il calo è maggiore per i settori più direttamente colpiti dall'emergenza sanitaria. Le attività dei servizi di alloggio e ristorazione mostrano un crollo del 62,6%. Forti cali anche per le agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese con meno 30,7%. Il trasporto e magazzinaggio meno 27,8% e le attività professionali, scientifiche e tecniche meno 23,2%. L'incertezza sull'avvio delle elezioni sta facendo sentire i suoi effetti sui consumi direttamente legati al comparto scuola. Il punto lo fanno le federazioni di settore aderenti a Confcommercio che rappresentano le cartolibrerie e le librerie in tutta Italia. Ad oggi va a rilento la vendita di materiale scolastico. Federcartolai, Confcommercio, registra un meno 40% di fatturato. Sul fronte librerie sembra andare un po' meglio. Aliconfcommercio ha riscontrato da parte delle famiglie il desiderio di garantire ai figli un avvio dell'anno scolastico ordinato e con tutto il corredo pronto di libri, ma c'è una maggiore lentezza nel ritiro dei testi. Una sentenza della Corte Costituzionale consente il riavvio della legge media per il riaccorpamento delle Camere di Commercio. Ce ne parla l'economista Gianni Lepre. La Corte Costituzionale fa ripartire la riforma delle Camere di Commercio. Infatti con la sentenza numero 169 del 2020 ha respinto il ricorso di alcune di esse contro la riforma Madia che prevedeva proprio l'accorpamento delle varie Camere di Commercio. Difatti diventeranno dalle attuali 95 60. In pratica questo comporterà una semplificazione nel rapporto tra le imprese e le Camere di Commercio che avranno maggiori poteri. Ricordiamo che le Camere di Commercio sono la casa delle imprese.